Benvenuti ragazzi su NLPG Passione Games, buona domenica, un buon diciamo conclusione della settimana, per noi è stata una settimana buona per quanto riguarda la programmazione, però diciamo buona, oggi si è conclusa con la parte finale di, con la finale purtroppo la semifinale non è andata molto bene, fino al terzo e quarto posto con un punto caldo, un grande strutturso che secondo me sarà protagonista di questo mondiale che comincia oggi alle quattro spiccio, una partita inedita di Qatar-Equador, si la guarderanno perché è la prima, ma insomma è che sia l'interesse è stato sferico, però è giusto che ci siano tanti diciamo che ci stanno anche a fare squadre di vertipolini, secondo me è giusto, si sono qualificati, cioè non è che perché le squadre più blasonate sono così blasonate ci devono essere, è già due volte salta in mondiale, ma questa è stata una settimana discreta anche come presenza, soprattutto mi ha fatto piacere, numeri non, ovviamente il canale vanno bene, ma numeri non esagerati, però mi ha fatto molto piacere che sostanzialmente ci sia tanto sentite rumori del sottofondo, no? nel sottoscritto che no, a parte no, vedo che ho eliminato il rumore, sono sempre in prova ragazzi, OBS mi è andato un crash, quindi portate pazienza se alcune video portano un audio che fa pagare, ho dovuto disinstallarlo, disinstallarlo, ovviamente nella disinstallarlo non ho salvato le impostazioni, perché ero fortemente arrabbiato su questa situazione, non ci mettete troppo, perché tanti video vedete che in OBS ci mettono una marea di scene, no ragazzi, poche ma buoni, tanto mi piace, un po' di sole in faccia, ah bellissimo, sto registrando con la seconda Wackham, che non è poi così malaccio, la prima, la sapete, è proprio sopra la mia televisione 65 pollici, che mi dà, un po' vicina, forse un po' troppo, però mi dà, diciamo, la sensazione di essere o in campo quando gioco con people in gruppo, oppure sui campi di me, e a proposito di questo, sarà una novità della settimana prossima, ma prima di chiacchierare, mandiamo un'onda alla sigla del canale e poi ci rivediamo, vai! Ok, sigla veloce, avete visto, ora devo cambiare anche qualche disposizione di transizione, ma va bene per il momento, allora, ragazzi, questa settimana, come ho detto, abbiamo fatto il mondiale con Portogallo, ci siamo divertiti, l'abbiamo fatto completo, siamo arrivati in fondo, di fatto abbiamo perso la semifinale, ma abbiamo avuto la finale di quattro posto. Qualche nota, nota negativa di FIFA, non ci sono gli inni, cosa che invece negli europei con il buon PES c'erano, quindi, e poi, io non lo so, ma non ho capito chi ha vinto il mondiale, la finale tra Danimarca e Spagna, a chi la viva, quindi queste cosettine, secondo me, dovrebbero aggiustare, forse, nell'ultima patch l'avranno fatta, io l'ho giocato tutto in un, in un fine settimana, quindi non ho, diciamo, la patch l'ultima, siamo tornati anche sui campi di football, due episodi, abbiamo avvicinato il giovedì e il venerdì, torneremo sui football martedì e anche giovedì, ormai l'ho promesso nel video, quindi due partite ci saranno. In quanto riguarda il mondiale, lo faremo, con l'Italia lo faremo più avanti, ho deciso, appunto, l'Italia subentrerà l'Iran, o che potrà, però sarà una delle cose che avevamo un prospettato, ma ci sarà, prossimamente, questa settimana faremo uno o due episodi, forse uno dove giocheremo sul mondiale, ma con le, con la, con la possibilità che propone, tra le varie cose, come modalità, quello di entrare in campo, o in attacco, o quando difendo. Sceglieremo una squadra, come dire, normale, quindi, magari una Croazia, vediamo quale, non una sciagattata, perché, quindi, bisogna entrare in campo, quando ci si difende, quindi, se scelgo l'Iran, ad esempio, e devo entrare in campo, quando difendo, sono sempre qui, ma, e vediamo un attimo. La novità che ci sarà la settimana prossima, infatti, avete visto, no, sul titolo, che il 22, ci sarà l'ingresso più potente sul Game Pass di Butterfly 2042, un titolo che, di fatto, non ha avuto un grande successo. A me non piace molto, devo essere sincero, perché non c'è la campagna, io sono amante delle campagne, cioè giocare in offline, è tutto online, ora poi magari faremo un video dettagliato dove, appunto, andremo a vedere il gioco, però, mi sono detto, approfittando di questo ingresso più potente, ma perché l'hanno fatto? Perché vogliono rilanciare il titolo, non ha avuto un grande successo, ha fatto abbastanza schifo, per vari motivi, io non sono recensore di giochi, io le scopo insieme a voi, non ho la pretesa, e meno male non c'è la pretesa, di essere un recensore di giochi, però ho detto, ok, è l'occasione per poter fare un qualcosa, ha detto, torniamo indietro, la scelta era tra Butterfly, ora i primi no, o il 3 o il 4, ho scelto il 4, perché, dal punto di vista cronologico, ha una sua, un suo perché, la storia, nel 3, che comunque poi vedremo, sono tutti nel Game Pass, perché sapete, Game Pass e IA sono la stessa cosa, in meglio, chi ha il Game Pass, c'ha in automatico anche l'abbonamento ai giochi su IA, e approfitto ragazzi, andatevi a vedere, con pochi spiccioli, avete un catalogo esagerato e non scrivete il sogno, a bischeri, una volta giocate e cancellate, dicevo, giocheremo a Battlefield 4, così, a livello introduttivo, giocheremo mercoledì, mercoledì e venerdì saranno i primi due episodi, poi vediamo se magari venerdì, ripende, un attimino, ne saranno due, ora vediamo, comunque, è un gioco ambientato negli anni 2020, un ipotetico conflitto tra gli americani, che ovviamente sarà il presionista, e la Russia, guarda caso, e la Cina, quindi, diciamo, è un contesto un po', non ti dico, sì, mi lavora, per me è così, ma comunque, insomma, la Russia, che è sempre lì, pronta, e gli americani che fanno, diciamo che siamo il nostro protagonista, cioè il personaggio che noi guideremo, è un sorgente di colore, è un sorgente Rackles, se non sbaglio, della marina a militare, e il, l'avventura si, si svilupperà intorno alle 10 ore, 10, 12 ore, alcuni dicono 7, insomma, diciamo intorno alle 10 ore, quindi, che vedo 10, 11, 12 episodi, forse qualcosa di più, e si andrà a, sul, eh, sui campi di battaglia, eh, a Fagani, eh, si trova, incomincia prima a Baku, quindi la storia incomincia a Baku, abitata, il prologo è a Baku, dove la squadra Pumstor, viene così denominata, composata da tre, eh, tre, quattro, tre, anzi, tre, eh, tre marine, si trova, eh, si trova coinvolta in un incidente. Un incidente, eh, all'interno di un'auto, eh, rubata da una fuga, hm, alla città, eh, cade in acqua, il, diciamo, il, diciamo, il sergente Don, se non sbaglio si chiama così, eh, rimane intrappolato, bloccato, quindi non c'è niente da fare per lui, o, in apparenza, sembra così, il nostro personaggio, sul consiglio di Don, Don, riesce a liberare il compagno, spattando il vetro con uno sparo di pistola. Da lì, poi, c'è il, un retro di qualche giorno qui, ambientato sempre nella città, di Baku, dove la squadra si ritrova, perché è stata disunita, si ritrova, e deve fuggire dalla, eh, diciamo, dalla città, e ritrovarsi poi in quella condizione. Questo è il prologo, ve lo racconto così, calcheremo il vetro, i treni di battaglia, anche i cinesi, ci troveremo su una portareri, la USS Titan, per la certezza, Aitan, Aitan, ora può magari qualcuno mi dice, ma che è il padre, dice un master, quindi, silenzio. Detto questo, poi, insomma, ci saranno mille felipezie, non lo proveremo, lo proveremo, mercoledì, in attesa, appunto, di trovare poi, eh, battle fare 20, 42, Questo cosa comporta? Che, di fatto, le serie, ora in essere, e vi dico anche perché, soprattutto, Assassin's Creed, troverà una sua collocazione temporanea, diversa. Allora, Assassin's Creed, ragazzi, eh, è una serie che va fatta, sicuramente, in teatro, eh, online, cioè, fatta su Twitch, fatta, appunto, in live, Sono online, in live, dove uno, magari, tutti i giorni, sta due, tre, quattro ore online, e porta al contenuto. Se uno lo può fare, come video, anche, vero? Che, sì, ci sono, ma, i vari maccioscia, non penso neanche falconero, ma, insomma, le portano, ma sono un po' raggruppati, no? Se no, se no, avviene, una storia che, vedete, almeno, 80 ore, di gioco, quindi verrebbero 80, 100, 100, 100, se giochi un'ora, ma, un video un'ora, se giochi mezz'ora, sono più di 160, se sono 80 ore, punto di gioco, più di 160. E' cosa improponibile, no? Ci si perde. E, ovviamente, porterò qualche cosa, qualche futuro, anche perché la storia è molto bella, a me, secondo me, alcuni dicono di no, ma, secondo me, eh, sia Origin che Odyssey sono veramente, però, sono troppo lunghi, e quindi, di fatto, questi giochi, secondo me, non ha senso di portarli su un canale YouTube, dove, appunto, un video deve durare al massimo, al massimo, 40 ore. Ritorneremo, invece, sui campi di battaglia di, eh, Midian Jones, quello sì, ragazzi, l'abbiamo un pochino abbandonato, perché volevo dare più spazio a Assassin's Creed, quindi, bene, tanto, però, parliamo e giochiamo con, eh, Battlefly, vediamo se ci piace, poi vediamo anche un po' gli spettatori, forse poi ci sono due o tre letture e basta, poi, io, anche per uno spettatore solo, ovviamente, posso, per rispetto a lui, il video, però, insomma, se la storia ne vale, la pena, noi ci siamo. Quindi, ragazzi, la settimana prossima, saremo sui campi di FIFA, con, sicuramente, con Gattuso, e l'appuntamento del mercoledì, l'appuntamento del mercoledì, e del sabato, quindi, questi tre appuntamenti, ci saranno. Vediamo dove si va a rifinire, dopodiché, appunto, eh, ci sarà, eh, martedì, giovedì, e football, e poi, eh, mercoledì, appuntamento, Battlefly, così come, venerdì, con venerdì, l'ipotetica, anche, doppio episodio, vediamo, come, poi sabato, riparleremo dei weekly, vediamo cosa si propone, ovviamente, potremmo anche essere, i weekly sarà, eh, diciamo, potrebbe essere, anche la scoperta di Battlefly 2040, eh, poiché, se, per 22, non so che giorno è, ma sicuramente sarà su, prima di, di sabato, grazie, io direi, di chiudere qui, il, eh, questo weekly, velocissimi, 10 minuti, sperando che sia andato un buon punto, io vi aspetto domani, e, e poi, insomma, ovviamente, eh, sotto trovate tutti i link, eh, sui collegamenti, a cui fa riferimento il canale, la community, eh, sul discord, eh, la pagina facebook, ehm, a twitch, su twitch, ragazzi, eh, ritornarci bisogna essere, qualcuno mi diceva, come mai non fa più sulle live, è vero, è da un po' che non sono più presente, cercherò di esserci, spero, la settimana prossima, ma non credo, perché è molto difficile, per chi lo fa come pressione, e come hobby, io posso dedicare due ore al giorno, ma se sono tante due ore, eh, e quindi diventa, diventa, e vediamo, comunque vediamo, ovviamente per dare precedenza a twitch, dovrei lasciare un pochino più il canale, io sono più affezionato a youtube, devo essere sincero che non a twitch, comunque, vediamo un attimino che cosa si può fare, un saluto.